dopodiché qui c'è un po' d'ombra qui continua a esserci ombra e qui probabilmente questo è un po' più crudo qui probabilmente la luce arriva da qua e quindi in questa zona qui è già tutto in ombra guarda un po' dopodiché qui siccome è un praticamente è un ombra qui il taglio della bocca è un'ombra di contatto quindi c'è un punto nel quale c'è un punto nel quale c'è ombra sia sopra che sotto intorno a questo taglio lui poi disegnando addirittura mi fa un confine della parte in ombra e qui fa un'ombra così poi qui c'è questa cosa che va fatta qua sotto vi ricordate questo pezzo qui? qui lo già lo vedo così e che gira che fa così 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 e così no? e poi viene in avanti per il mento qui per in questa zona qui se la luce viene da qui c'è ombra e c'è un filo più scuro di quest'ombra ok questo va così questo va così qui ci possiamo mettere qui è un po' più scuro perché qui ci sono quei due pallini famosi no? però secondo me qui c'è più ombra ecco pronto a questo punto non dobbiamo perderci a questo punto non dobbiamo tanto qui c'è un'ombra più precisa e poi diventa questa e qui questo punto è più scuro e anche questa parte è un po' più scura e poi qui c'è un filo bianco non so se ve ne ho parlato adesso dovrei avere una matita più temperata per fare queste cose e poi qui c'è la parte come diavolo si chiama questa parte qui sotto al naso questa specie di affossamento che c'è a fare il naso che è il labbro superiore e qui c'è ombra e di nuovo dovrei aver imparato qualcosa anche qui ah voi guardate come uso vedete come mi modello la gomma pane per andare a dare dei colpetti di luce e di ombra una volta che ho fatto questa prima impostazione vado ad approfondire la storia volendo cercando di dare anche del tratteggio incrociato no del tratteggio modellato ovvero vado a così qui di nuovo anche qui si prende dell'ombra e gliela do sempre dando un tratteggio un po' modellato che 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 che